bella a tutti ragazzi sono da Mirko bentornati su gameplay channel e su tropico 6 allora amici io stavo facendo qualcosina off camera ho completato la missione del cabaret qua vicino per appunto all'ambasciata questa piantagione diciamo di maes poi è mia intenzione toglierla quindi per quello che gli ho costruito sopra senza ritegno appunto il cabaret e stavo anche facendo la biblioteca questo per dare un po' più di cultura appunto ai nostri tropicani dunque mi avete fatto notare giustamente che ho una marea di case non occupate in questo caso ne ho case vuote 88 che stanno diminuendo perché prima erano più di 90 ho provato appunto ad abbassargli ulteriormente il budget vediamo un attimino se in questo modo appunto riusciamo a fargliele occupare perché appunto le case le hanno ma in realtà fanno un po' fatica ad occuparle perfetto poi al momento stiamo facendo appunto la missione questa qua degli alleati in cui abbiamo fatto appunto il covo dei pirati stiamo completando varie missioni di salvataggio ma ci vorrà un po' perché ne dovremo appunto fare 4 e poi stiamo facendo appunto la missione della rotta commerciale sempre con gli alleati al momento il commercio sta andando piuttosto bene ma siamo sempre particolarmente in rosso quindi vediamo un attimino cosa riusciremo a combinare queste vedete che comunque le stanno piano piano riempiendo perfetto che siamo tornati in attivi benissimo ah ok la rotta commerciale con gli alleati l'abbiamo fatta perfetto chiediamo sempre una decina di immigrati magari e andiamo a mettere una nuova rotta commerciale sempre di oro se ovviamente ce lo fanno mettere stavolta no maledetti rompiballe eh ma hanno tolto la cosa dell'oro questo è un bel problema vediamo se posso commerciare magari il rum con gli alleati no solo con l'oro il cibo in scatola non ce l'ho rum ah però i contrabbandieri uh sì assolutamente sì guadagniamo un botto di soldi allora assolutamente facciamolo ehm con i contrabbandieri perfetto perfetto così almeno questo ci dovrebbe permettere di ehm fare un po' di soldi allora abbiamo i militaristi vabbè non portare sfiga caro generale Rodriguez a risveglio mi sono accorto di aver fatto cadere il lume dal comodino ma non è questo il punto aiutami ad aiutare Tropico presidente non riuscirò mai più a dormire ehm va bene soldati professionisti accetta la richiesta ehm va bene te lo faccio i soldati professionisti credo che sia no non qua negli editti credo ehm dove lo trovo i soldati legge marziale allora vediamo un attimino dov'è imposta la costituzione ah no ok costituzione quindi è qua eh dobbiamo impostare la costituzione e però mi sa che non la posso fare o forse qua ah no soldati professionisti liceale ehm prova a farla ehm prova a farla così e vediamo ehm vediamo un attimino che cosa succede te l'ho messa ma eh devo salvarla mi sa in qualche modo sì esatto conferma cambi ok e questa l'abbiamo eh per l'appunto fatta ok eh 5 a supporto ai militaristi direi di sì perché siamo un po' bassi con i militaristi effettivamente ehm va bene comunque allora vediamo un attimino devo mettere assolutamente anche il liceo ora il liceo eh in realtà adesso abbiamo anche 13.000 quindi stiamo anche guadagnando bene per cui investiamo anche un attimino nel nell'istruzione quindi sblocchiamo il liceo e ovviamente lo mettiamo io lo metterei sempre qua vicino alla eh biblioteca sinceramente mettiamoglielo qua in parte perfetto e gli mettiamo l'alta priorità così iniziamo ad acculturare un po' le genti che ehm assolutamente serve allora abbiamo sempre 39 cittadini poveri e 10 ehm benestanti va bene allora direi di fare quindi ancora un po' di ville di campagna magari le potrei mettere sempre qua che secondo me ci stanno quindi ne mettiamo una qua e ne mettiamo già un'altra eh qua perfetto case disoccupate adesso sono un po' scese case vuote 77 si vedete sono scese di altre 10 eh perfetto quindi man mano me le dovrebbero in teoria eh andare a occupare qua una missione di salvataggio l'abbiamo fatta ne dobbiamo fare esatto sono già impostate altre 3 quindi ci vorrà eh per l'appunto un pochetto ora vediamo se mi vanno a costruire ehm questa struttura non sarebbe male il broker eh va bene abbiamo un po' di cose ma per adesso abbiamo comunque 8000 nel conto svizzero eh quindi un po' di soldi lì abbiamo perfetto eh allora la politica vediamo invia delegazione eh fai una richiesta no lo diamo no abbiamo una delegazione dai va bene andiamo a mandare una delegazione come politica qua cos'è ministero di partimenti niente eh va bene qua cos'abbiamo visita all'ambasciata alleati si lo sto facendo lo sto già facendo in realtà quindi assolutamente l'accettiamo perché è una cosa che eh per l'appunto stiamo già facendo eh costruitemi un po' queste cose velocini ragazzi velocini è come un incendio no 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 ferma 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 che incendio sta devastando tropico ma che stai scherzando invia l'elicottero eh non è il momento operativo ma non posso inviare l'elicottero scusa allora mannaggia questi mi stressano durante un incendio allora eh supporto comunisti no teniamo sempre due dormitori tanto va bene ok no no sono arrivati i pompieri meno male ci vanno ok i pompieri hanno spento l'incendio meno male ragazzi mamma mia meno male meno male dunque visita edificio ma vabbè lo diamo invia delegazione amanes ah no perché ma che scemo no devo visitarla in qualità di presidente ah ok eh come si faceva allora devo andare con aspettate un attimo che qua è un casino costruisci dormitorio si mo te lo costruisco il dormitorio allora non posso farlo perché non c'ho i soldi perfetto allora diciamo che facciamo seleziona presidente visita edificio eh costo mille cioè devo pagare mille anche per visitare un edificio ma porcaccia la miseria eh aspettiamo che ci entri un attimino di soldi perché se no ok ma noi come siamo ubriachi come una tegola come sempre sì ovviamente sì ma noi siamo dobbiamo essere sempre ubriachi in una maniera così esagerata vabbè va bene va bene dunque ti devo fare quindi anche due dormitori perfetto te li faccio subito guardate ne metto uno qua e basta perché non c'ho più soldi quindi ok vediamo se mi ridà magari loro ovviamente no che cavolo sta succedendo peccato che i nostri vicini siano stati centrati in pieno c'è una una pioggia di meteoriti non possiamo dare limite all'ingresso dei rifugiati si può fare accogli ai rifugiati no no ferma ferma che cavolo sta succedendo ma porca ma porca miseria no vabbè ma la pioggia di meteoriti no vabbè non ci voglio credere cioè ma che sfiga pensavo fosse un bombardamento addirittura ho detto porca miseria mi stanno mi stanno bombardando mannaggia la miseria porcaccia miseria che sfiga meno male che non mi ha colpito qua devo assolutamente fare una una stazione di pompieri anche qua perché sennò si è arrovinati ragazzi si è veramente arrovinati allora ok per adesso lasciamo così anzi no vabbè inviamo sempre la delegazione vai invia la delegazione ok copete a ride da sabotaggio costruisci il presidio dei commando ok quindi mi sa che devo far prima il presidio dei commando anche se non so assolutamente cosa sia allora dove lo trovo dunque qua no vediamo magari qua covo dei pirati presidio dei commando ok allora iniziamo a comprare il progetto e poi lo andremo a sbloccare non appena cioè a costruire e non appena per l'appunto ci saranno i soldi io intanto costruirei se posso no un altro dormitorio assolutamente no posso costruire però una villa di campagna e va bene iniziamo a fare intanto la villa di campagna qua dietro vai benissimo va bene allora noi qua cosa stiamo facendo noi in realtà stiamo facendo anche il ferro cosa che io non avevo visto tra l'altro però non lo possiamo comunque vendere lo possiamo solo importare col ferro cosa potremmo fare eventualmente allora abbiamo la conceria non so se l'ho già messa la conceria però mi sa di no mi sa che non l'ho ancora messa io non so come vedere una lista delle imprese che ho elenchi edifici oh perfetto l'ho trovato allora traffico e infrastrutture industria no ho solo la distilleria di rum quindi una bella conceria la potrei effettivamente mettere non sarebbe male mettere una conceria sinceramente sì dai direi di farla qua così almeno è vicino ai range che sono in realtà qua per cui perfetto benissimo benissimo quindi alta priorità assolutamente e non appena finiamo una una rotta commerciale mettiamo la pelle cioè il cuoio perché in realtà il cuoio anche ce lo pagano molto molto bene per cui assolutamente lo facciamo la stazione di polizia purtroppo non la possiamo ancora fare ma va bene ancora sti cavolo di incendi no dai il dormitorio no dai dai invia elicottero invia tutto dai pompieri muovetevi dai stanno andando a spegnere lo speriamo e intanto la conceria comunque l'abbiamo fatta che figa che è la conceria bella un incendio ancora per piacere eh meno male meno male ragazzi meno male allora la conceria ok stoccaggio interno vuoto si gli devono portare naturalmente le cose ok allora per adesso gli lascio il budget normale nel momento anzi no ho già disponibile una rotta perfetto quindi direi di andare a vendere no dai adesso che ho il cuoio non me lo fanno vendere ma siete delle carogne però eh la metto qua ragazzi la stazione di polizia la sbattiamo qua così almeno anche questa ce l'abbiamo e completiamo altre due missioni qua dovrei anche completare questa ormai dovrebbe essere eh quasi fatta chiediamo un aiuto economico dai visto che lo possiamo fare così abbiamo dodicimila e cinque perfetto cosa potrei fare aumenta l'immigrazione aumenta i prezzi di esportazione assolutamente l'ufficio doganale ragazzi perché abbiamo bisogno di tanti soldi al momento genera interessi su tutti i fondi anche la banca non sarebbe male ma costa veramente tanto eh già questa ci costa tantissimo però io inizierei a fare intanto l'ufficio doganale eh in questo modo almeno riusciamo a fare decisamente molti più soldi secondo me quindi mettiamolo qua vicino al porto direi che ci sta tutto l'ufficio doganale e me lo fa assolutamente alta priorità vai così dovrebbero aumentarmi i prezzi sull'esportazione quindi dovrei guadagnare con facilità decisamente raddoppiata insomma dovrei mettere anche tra l'altro un'ambasciata comunque per l'asse perché è sempre meglio comunque averne due che cavolo ma mi sta bruciando tutto oggi ma io non ci voglio credere eh devo coprire con stazioni di pompieri anche da queste zone allora vediamo se visita un'ambasciata alleate ancora ma che palle ancora devo visitare l'ambasciata qua degli alleati allora aspetta dove sono io sarò come al solito ubriaco come una tegola ti pareva che sono ubriaco ma io passo la mia vita ubriaco non ho capito tanto ci impiegherà sei anni ad andare lì e va bene dunque la stazione dei pompieri la potrò fare io mi sa di no allora servizi pubblici caserma dei pompieri no perché ci costa 4.500 ah però adesso mi sono arrivati i soldi ok quindi allora caserma dei pompieri intanto una sicuramente la mettiamo qua perché non mi fido assolutamente devo solo capire dove metterla ecco tutto pieno vabbè la potrei mettere comunque qua dai almeno non mi si incendiano queste cose e direi che è assolutamente utile come cosa ok qua me lo stanno andando a spegnere ovviamente no dai che la caserma è che vicina su ma cacchio mi brucia la taverna ma porcaccia la miseria dai pompoggi pompoggi pompieri bravi bravi oh hanno spento l'incendio meno male meno male allora diamo un attimo un occhio alle case vuote intanto case vuote 47 ok ne abbiamo però ancora tanti senza tetto ehi 292 porca miseria sono quasi tutti al verde gli altri sono poveri e qualche benestante si va bene allora dunque è un problema che cosa è un problema come sempre anche il divertimento in realtà e anche l'abitazione allora riconosciamo il problema del divertimento e promettiamo promettiamo di aumentarlo questo divertimento sperando di farcela però vabbè ci proviamo l'odiamo l'odiamo stavolta i religiosi si l'odiamo i religiosi accusa nessuno ok fa il discorso uh perfetto questa l'ho fatta ottimo ok qua c'è pure una protesta tra l'altro diamo l'esercito che c'è la protesta mentre io faccio il discorso no eh allora sta roba qua il capanno demolisci per piacere che nel mio giardino no perfetto il discorso comunque l'abbiamo fatto va bene siamo comunque al 93% e mancano 23 mesi quindi non dovrei in linea di massima avere problemi per quel livello di soddisfazione la stiamo facendo bene allora centrale elettrica eh si facciamo anche il teatro dell'opera va bene facciamo anche la politica sul lavoro dai questi li facciamo tutti perfetto però mannaggia ragazzi siamo a meno 20.000 porca miseria perché così tanto va bene qua sta andando bene stimola le esportazioni e speriamo che le stimoli le esportazioni perché se no è un bel problema ragazzi veramente un bel problema e qua esportare stiamo anche esportando stiamo anche esportando l'oro per cui speriamo per l'appunto di fare un po' di soldi ecco adesso un po' di soldi ci sono entrati ma cavolo siamo siamo messi abbastanza ma luce che i soldi va bene ragazzi comunque io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato appunto a Tropico 6 abbiamo visto quest'oggi meteoriti abbiamo visto incendi su incendi un nuovo discorso del nostro presidente che non so come faccia a parlare visto che sempre è ubriaco marcio praticamente la distilleria di Rune giustamente è a secco perché purtroppo siamo messi un po' male con con lo zucchero quindi io aumenterei un attimino almeno le piantagioni di zucchero giusto per dargli un attimino più di diciamo di sostentamento perfetto anche questa di zucchero vai andiamo a budget massimo così vediamo di aumentare un po' appunto l'apporto di zucchero nella nostra distilleria un'altra cosa che secondo me sarebbe utile visto che qua ci sono tante piantagioni mettere un ufficio diciamo dei trasporti per l'appunto in questa zona che potrà sicuramente aiutare uno è vero che qua c'è però magari uno messo qua che dalla piantagione porti qua potrebbe effettivamente non essere male va bene ragazzi comunque io vi invito come sempre a lasciare un sacco un sacco di like condividete commentate iscritti al canale se non siete iscritti seguite anche su instagram lo trovate qua sotto in descrizione detto questo vi saluto noi ci becchiamo al prossimo gameplay ciao bei lì